A 32 anni dalla tragedia, Favignana questa mattina ha ricordato l'agente di polizia penitenziaria Giuseppe Barraco, la cerimonia di commemorazione organizzata dal comune Catino, erano presenti il segretario regionale della Wilpa, Giochino Veneziano, nonché Giuseppe Tammaro e Antonio Sardo della segreteria provinciale di Trapani. Giuseppe Barraco, agente della polizia imbarcata o della motovedetta d'altura della base navale di Favignana, ricorda Veneziano il 21 dicembre del 1991 ha perso la vita per mettere in sicurezza durante una tempesta l'imbarcazione che serviva non solo per garantire i servizi istituzionali del corpo, ma anche come presidio di legalità e pronto impiego per eventuali emergenze della popolazione. Lo scorso 22 marzo, su iniziativa del sindacato, l'unità navale è stata intitolata a Giuseppe Barraco in occasione della festa del corpo di polizia penitenziaria interregionale che si è tenuta a Volterra. La motovedetta Giuseppe Barraco ora staziona a rivordo, conclude il leader della Wil, per effetto della soppressione della base Favignana, ma non ci arrendiamo all'idea di poterla ripristinare perché come abbiamo dimostrato al sottosegretario Andrea Dalmastro è impensabile trasportare i detenuti con i mezzi di linea visti gli altissimi costi sia umani sia economici quando la navale è stata istituita per l'incompensa di trasferimento dei detenuti via mare. Giuseppe Barraco si è sacrificato per servire civilmente la nazione e la comunità, detto invece il sindaco Forgione nel corso del suo intervento è un esempio di coraggio e dedizione che noi dobbiamo ricordare in questo momento difficile di guerra nel mondo che vede i nostri militari impegnati di missioni di pace a proseguire il sindaco vorrei ringraziare oltre il corpo di polizia penitenziaria tutte le forze dell'ordine per il lavoro costante e quotidiano che svolgono a servizio della nostra comunità. Forgione ha colto poi l'occasione per augurare buon lavoro alla nuova direttrice della casa di reclusione di Favignana Angela Russo insediatasi nei giorni scorsi presente oggi alla commemorazione. La storia del nostro penitenziario ha concluso il primo cittadino e la storia di Favignana dobbiamo mantenere saldo e valorizzare questo legame e questa identità.